Aveva occultato circa 70.000 euro di fatture contabili al fine di evadere le imposte. Per un imprenditore peligno, titolare di una ditta individuale che aveva sede legale a Campo di Giove, è arrivata l'altro giorno una pesante condanna a tre anni di reclusione al pagamento delle spese processuali, oltre all'interdizione dei pubblici uffici. La sentenza è stata pronunciata dal giudice monocratico del Tribunale di Sulmona, Francesca Pinacchio. L'imprenditore, per i fatti commessi nel 2017, era finito sotto processo per occultamento e distruzione di atti contabili, nello specifico in qualità di titolare della ditta che si occupava di costruzione di edifici residenziali, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o volume di affari, aveva occultato le fatture emesse in quell'annualità per un importo totale di circa 70.000 euro, di cui IVA al 10% pari a 7.000 euro circa. La conservazione dei documenti contabili è obbligatoria per legge e fini della tracciabilità, da qui il processo a carico del titolare della ditta individuale e la successiva condanna, tre anni di reclusione.